E' nel cuore di Napoli il museo italiano più amato al mondo, è Cappella San Severo, piccolo scrigno settecentesco tra i palazzi dei decumani, che supera i musei di Roma e Firenze nella classifica di TripAdvisor, uno dei siti più cliccati dai viaggiatori. Di proprietà privata, Cappella San Severo custodisce il suggestivo Cristo velato. In un unico blocco di marmo, alla metà del Settecento, Giuseppe San Martino scolpì il corpo di Cristo deposto dalla croce, mirabilmente drappeggiato come da un velo trasparente. L'opera, commissionata dal principe alchimista Raimondo Di Sangro, è stata attribuita in passato ad un prodigioso processo di marmorizzazione. Nella top ten dei siti italiani più amati al mondo c'è anche il Museo archeologico di Napoli con i suoi reperti pompeiani e il capoluogo partenopeo conquista i primi posti anche per i parchi. Il Virgiliano, che dalla collina di Posillipo si affaccia sul mare del Golfo, è quarto in Italia. Un bel risultato per una città che punta sempre di più sulla cultura e sul turismo. Tra le mete più amate si conferma l'intramontabile Capri. A premiare l'Isola Azzurra e Trivago, uno dei principali portali di prenotazioni alberghiere, con i suoi hotel esclusivi, i faraglioni, i panorami mozzafiato, i vicoli che confluiscono nella piazzetta, i negozi griffati, i locali in stile dolce vita, Capri continua ad essere amata dal jet set internazionale, oltre che dai turisti di tutto il mondo. Nei giorni scorsi è arrivata la cantante e attrice americana Mariah Carey, che ha postato su Twitter le sue foto sull'isola.